Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico a sostegno di Damiano Coletta, sindaco uscente di Latine e candidato del centrosinistra. Al decisivo ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre sfiderà Vincenzo Zaccheo, candidato del centrodestra. Entusiasmo e grande partecipazione a Piazza del Popolo. Sul palco Damiano Coletta, che chiuderà la sua campagna elettorale con accanto Nicola Zingaretti, ha ribadito le linee guida del suo programma elettorale. Io sono stato eletto nel 2016, sono stato eletto al ballottaggio con un consenso quasi plebiscitario, ci sono state tante aspettative nei miei riguardi e poi abbiamo iniziato ad amministrare e abbiamo trovato soprattutto nei primi tre anni una situazione importante di sesto economico-finanziario, proprio in esito a quelle cose lì, a quelle scelte che sono state fatte negli anni in cui è amministrato il nostro competito. Abbiamo lavorato sodo, abbiamo messo proprio la testa sott'acqua perché forse non siamo stati bravi a comunicare, a far capire alla città quale fosse il rischio. Io, mio padre e mia madre mi hanno insegnato che quando c'è da lavorare si deve lavorare. Nel mio vissuto professionale, sia da calciatore che da medico, quando è il momento in cui devi stare a tamponare un'emorragia, un'emergenza, devi stare a tamponare un'emergenza. E noi questo abbiamo fatto, perché abbiamo pensato unicamente a mettere in sicurezza la città. E ce l'abbiamo fatta, perché i conti piano piano sono tornati in ordine. Voglio ricordare che qui in Piazza del Popolo, adesso avete i giardini di Piazza del Popolo, li abbiamo riportati al vecchio progetto, il progetto di Sibò. E allora chi è che rispetta la storia? Chi è che non rispetta la storia? Chi cerca di strumentalizzarla? E noi siamo pronti, perché questa città è pronta, attraverso la progettualità. Ve li dico rapidamente, vado a chiudere, perché altrimenti ti metto a parlare due ore, io se ho tanta di quella... La progettualità, che cosa significa? Significa che tu hai lavorato, hai fatto un percorso e che adesso, se vuoi stare in Europa, l'Europa ti dà risorse, ma ti chiede anche dei tempi che devono essere rispettati, perché altrimenti poi i soldi se li riprendono. E noi lo sappiamo bene, perché Latina ci è entrata in Europa. Voglio ricordare una volta per tutte il progetto A, perché ci ha consentito di avere un finanziamento di 4 milioni di euro e siamo tra le sei città italiane che hanno beneficiato di questo finanziamento e tra le 20 città europee che hanno beneficiato di questo finanziamento. Voglio ricordare, ma non sto qui a fare la lista della spesa, ma questo tanto per rispondere a chi mi accusa di immobilismo in quei primi tre anni in cui abbiamo lavorato sodo per mettere i conti a posto, voglio ricordare che abbiamo portato nelle casse, nel nostro territorio, 90 milioni di euro grazie ai finanziamenti ottenuti dai bandi europei, quelli regionali e quelli del governo. Adesso è partita la differenziata, stiamo colmando un gap di 30 anni e siamo passati dal 30 all'80% di differenziata. Questi sono numeri, sono dati che ci porteranno, se il trend sarà questo, nell'arco di un anno e mezzo, ad avere un risparmio sulla tari di circa il 45%. Sono numeri, sono dati, sono proiezioni, non sono balle. E tutto questo, il nuovo ospedale, certo serviranno risorse che la Regione in qualche maniera sta già appostando, che il Ministero della Salute sta già appostando. Se ce n'era bisogno, e francamente non ce n'era bisogno, credo che Damiano ci abbia dato una dimostrazione di cosa vuol dire la passione, la passione per la politica, la passione per la sua città, la passione per la vostra città, credo veramente che ci abbia convinto, ma non avevamo bisogno di questa sera. Ma stasera ci ha dato qualcosa in più. E devo dire che questa passione, questa competenza, questo attaccamento alle cose, questo fare una campagna elettorale che cerca di parlare di che cosa vogliamo fare per il futuro, è quella che è più convincente ed è quella che noi troviamo completamente nostra. Sono orgoglioso di poter dire che il Partito Democratico ha dimostrato, anche in questa campagna elettorale, anche in questo tornante della vita del Paese, di essere una forza politica inclusiva, generosa, che guarda all'interesse collettivo e che punta soprattutto alle città, ai territori, alla classe dirigente che vuole impegnarsi nelle nostre città e nei nostri territori. Il nostro partito, il Partito Democratico, vuole essere... Il nostro partito, vuole essere...